il sussidiario delle discipline scoprire si può un progetto ben delineato e un metodo di lavoro infatti il testo base traccia la strada e grazie alle note a fondo pagina fornisce i rimandi agli altri volumi che con le loro specificità contribuiscono a offrire agli alunni uno strumento di conoscenza completo il libro delle mappe e degli schemi per facilitare lo studio il quaderno per consolidare conoscenze e abilità l'atlante per approfondire gli apprendimenti nelle discipline di studio il libro di base si caratterizza per i titoli che orientano verso il contenuto la suddivisione in paragrafi brevi e linguaggio semplice le parole chiave evidenziate in blu le immagini accuratamente scelte tanti utili accorgimenti didattici atti a favorire la gestione autonoma del testo da parte degli alunni inoltre sia il sussidiario con le sue mirate tipologie di esercizi per esempio studio passo passo sia il libro delle mappe e degli schemi offrono strumenti semplici ma efficaci per avviare ogni bambino ad acquisire autonomia nello studio nel contesto del volume l'educazione alla cittadinanza svolge un ruolo significativo in matematica il riferimento costante alla realtà quotidiana attualizza la disciplina l'introduzione dei concetti è affidata ai fumetti per l'immediatezza e la vicinanza del linguaggio al mondo dei bambini le spiegazioni attente a ogni passaggio sono supportate dalle attività imparo passo passo per verificare la comprensione dei concetti appena introdotti gli esercizi molto abbondanti permettono di consolidare gli apprendimenti i volumi del progetto sollecitano poi gli alunni a imparare da altre fonti oltre il testo scritto immagini schemi e carte geografiche attività laboratoriali valorizzando il fare per sapere i molteplici stimoli proposti permettono dunque ai bambini di esercitare diversi stili cognitivi contribuiscono alla completezza del percorso frequenti verifiche per competenze testi in preparazione delle prove in balsi i compiti di realtà ampiamente trattati nella guida per il docente la guida clil per l'insegnante con gli unit interdisciplinari di storia geografia e scienza le risorse digitali in particolare il mio giornalino l'appuntamento mensile online con una versione per il docente ricca di spunti per condurre le lezioni scoprire si può è anche libro facilitato per l'alunno e sarà fornito su richiesta del docente rivolgiti al tuo rappresentante gaia edizioni se desideri ulteriori informazioni su questo progetto